Questa gatta è Lucilla E' bellissima! Scusate, è una scarica di nervi perché non ci posso credere Sì, è vero, sì Vi sembrerà strano ma è Lucilla Dobbiamo fare attenzione perché Renata è in giro per il collegio E soprattutto dovete stare attenti voi due L'unico che è detto alle condizioni sono io Mi hai già imbrogliato una volta No, no, ci saranno imbrogli o ripensamenti Questo sarà l'ultimo affare che faccio con te Quando mi ridarai i miei cinque nipoti In quel preciso momento io ti darò il tesoro Questo sarà l'accordo Accetti? Sì o no? Ascoltare Atticare Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Dove si trova il tesoro? Niente affatto Prima voglio sapere dove tieni i miei nipoti Sono tutti in un bel posto Dimostrami che sono vivi, Eusebio Ebbene, questo incontro sta durando molto Non posso più rimanere qui, è meglio che me ne vada Un momento Che ora è? Le sette, che ti prende? Ti sto facendo perdere il tuo programma preferito? A mezzanotte in punto Voglio i miei cinque nipoti qui in collegio sani e salvi Però se te li porterò Tu mi dovrai consegnare tutto il tesoro Naturalmente Trattativa conclusa Quando scoccherà il primo minuto della giornata di domani Il tesoro passerà nelle mie mani Fa attenzione a quello che fai Non posso vederti con questi occhi Però riesco a vederti con gli occhi della mente Ma io sono Lucilla Per favore, amici Dovete credermi Non potete farmi questo È tutta la vita che sopporto che la gente ci confonde E che pago le conseguenze dei comportamenti di Renata Da sempre, da sempre È un incubo Senti, non so chi sei Ma ne parliamo in un altro momento, eh? Puoi andartene? Ma perché? Perché mi fate questo? Non mi cacciate Dovete fidarvi di me Non mi fate questo, per favore Va sempre così Non mi cacciate Fidatevi di me Allora, sentiamo Chi ti ha detto Chi ti ha detto che io sono Renata E perché? Chi me l'ha detto? Toto e Miranda me l'hanno detto Ma... Toto e Miranda Toto e Miranda Che prove hanno Toto e Miranda Per affermare questa cosa? Vuoi sapere che prove hanno? Vuoi sapere che prove hanno? La gatta La gatta La gatta che hanno trovato E che è tua sorella Lucilla E perciò vattene Ma voi credete a questa follia? È davvero incredibile È una cosa assurda Oh, va bene, va bene Basta Lucilla, Renata Non so chi sei Però vattene Ci sono i bambini qui Sono spaventati Quindi ti chiedo per favore Di andartene Bambini, anche voi credete a questa follia? Non mi vedete? Vedete come sto? Sì, sì Credete a questa storia assurda? Renata, non vogliamo alleati di Eusebio nel nostro rifugio Perciò vattene, facci il favore Basta, io non me ne vado perché non ho fatto niente Vattene, te lo chiesto per favore Vattene da qui Non ti vogliamo Smettila, non ti vogliamo qui Te l'abbiamo già detto tutti Scusate, che c'è? State detegando? No, no Stiamo chiedendo a Renata di uscire Non sono Renata Non sono Renata Per favore, basta Ci calmiamo un po'? Seguimi, vieni Sì, mi calmo Non ho niente da nascondere Non è lo Silvia, Renata Dopo ragazzi Tu vieni con me Che paura, come tremo Siete davvero sicuri che Renata sia la Mastery? Sicurissimi, mamma Siamo tutti in pericolo No, no Tu no Perché a te ci penso io No, eccolo qui, super uomo C'è suo padre, amore Sta attento anche tu Sta attento Sì, scusate Scusate, queste fusioni non mi piacciono molto Forse questa è una gatta qualsiasi Magari appartiene a un vicino L'abbiamo vista io e Miranda È Lucilla Siamo sicuri? È ovvio che Renata sta mentendo Come sempre, no? Sì La ragazza è un incubo Maledico il giorno in cui l'ho conosciuta Beh, questo no, tesoro Questa è una cattiveria Però ti dico una cosa Quando ha consegnato la lettera a me Ripassiamo La lettera di Rita, no? Era identica Beh, sono identiche Però quanto mente bene, dico io, no? Sì Era Lucilla Però questa è un'altra storia Quando l'abbiamo trovata Questa gatta aveva un collare Dove era infilato un messaggio di Rita Che diceva di essere nascosta nello scantinato Certo, non se n'era mai andata Per questo siamo scusi anche noi E abbiamo trovato Renata E Rita? Non c'era Non dovete stupirvi Non è una novità Perché niente alla Mastery È quello che sembra Quando finirà tutto questo pericolo This is so dangerous Stia tranquilla, Victoria Camomilla per tutti Sì Felipe è diventato cieco Sì, sì Quando sono andato a vedere se mancava qualcosa Se andava tutto bene Era strano E poi Diego me l'ha confermato Che brutto L'unico che mi dà sicurezza qui sei tu Però cerchiamo di non litigare No, tu sta tranquilla Andrà tutto bene Manca qualcosa a rifugio Posso essere d'aiuto? Sì, manca Gaia Però erano già andati a prenderla Sì, beh, lo so Però non voglio lasciarla sola Possiamo fare qualcos'altro? Sì, sì Voglio convincerla Gaia, sono io Valentina Aprimi Sta zitto Ehi, perché non le vuoi aprire? Perché non so se è Valentina Non ne sono sicura Ma l'ha detto L'ha detto Sì, l'ha detto Com'è Eusebio? Può imitare tutte le voci alla perfezione Forse è una trappola Alessandro, per favore Eusebio È un'altra volta qui Sì, tranquillo Gaia, sono io Vale Gaia, sono Ivo Ci apri, per favore Bene, ascoltami Allora Tuo zio è riuscito a portare il tesoro in questa dimensione E per questo Eusebio fa così Per questo è venuto Vorrei trovare il tesoro Sì, ma se c'è Ivo Ci deve essere anche Valentina Non sono sicura Non sono sicura È pericoloso Alessandro, nasconditi Gaia Nasconditi, forza Per favore È pericoloso Lo faccio per te, davvero Ecco, apro Tutto bene? Sì, e tu? Sì Sì, ci hai spaventati Sicura? Tutto bene? Sì, sì Qualche problema? No Hai saputo che Felipe ha oltrepassato il campo magnetico per prendere il tesoro Beh, è diventato cieco Sì Mio zio è cieco Alessandro, sei tornato? Alessandro, come stai? Sì Dove sono gli altri? Sei con te? Sono felice Non lo so Non so, sono arrivato qui così all'improvviso e non ricordo nient'altro Niente Noi non abbiamo mai smesso di pensarvi Lo zio è diventato cieco Sì, è così Calmo, calmo Qui stanno succedendo cose molto complicate Ci aspetta una notte molto lunga Sì Abbiamo creato un rifugio per stare tutti insieme Sì, andiamo? Dai Andiamo No, non ci conviene Perché? Perché no? No, se Eusebio vuole colpirci e noi siamo tutti insieme Gli sarà molto più facile controllare la situazione Ma se rimaniamo separati Almeno potremo riuscire a chiedere aiuto Hai ragione Sì Va bene, ok Sì, allora noi quattro rimaniamo qui Sì, io sono d'accordo Però è meglio avvisare i ragazzi Va bene, vado io Alessandro, rimani con loro? Stai attento, Ivo Sì Dove saranno quei cinque idioti? Come posso impadronirmi del tesoro se non so dove sono i suoi nipoti? Non posso proprio sprecare quest'opportunità Parla di qualcosa Ah, che allegria Che emozione Avere di nuovo la mia bella anatomia umana Grazie, Eusebio Davvero, davvero Grazie, Eusebio Non l'ho fatto per te Non mi piace parlare da solo E quando non ho un interlocutore me lo invento Ah E mi dica, che ne è della sua nuova alleata O seguace, come vuole, Renata Non le ho idea Oh, che strano Prima non si allontanava un secondo Renata qui, Renata lì Era proprio come la sua ombra Oh no Sta lavorando per me Impicciona Io non sono un'impicciona Solo che sono avida di novità Mi racconti Mi dica i dettagli Mi racconti tutto Novità? Sono scomparsi i nipoti di Della Fuente Neanche i guardiani sanno dove sono Quegli inutili Ah, sì, certo Quella inutile sono io Chi è? Ivo, aprimi Dai, dai, dai Vieni Amici, è tornato Alessandro Come è tornato Alessandro? Cosa è tornato solo? Sta bene Che dice? Che racconta? Ricorda qualcosa Sa dove sono gli altri? Calma, calma Ti riconosce? Sì, mi riconosce Sta bene Va tutto bene Ma il fatto è che non sa niente degli altri Perché stavolta è solo? Non lo so È un mistero E poi perché adesso non è qui? Sicuramente è con Gaio Sì, è con Valentina Sì, è di questo che voglio parlarvi Voglio spiegarvi la nuova strategia Sì Anche noi dobbiamo dirti una cosa Non sai chi è successo? Mi spaventi, che succede? Beh, non importa che cosa succede È venuta Lucilla o forse Renata Non lo so, è un guaio, capisci? Comunque ora è con Diego Sì Non capisco niente che... Beh Ivo, Renata è venuta qui Sì E non mi stupirebbe se anche Eusebio fosse nei dintorni Come? Abbiamo un problema Io sono Lucilla Dov'era? Ne rifugio con i ragazzi Non facevo niente di male Salutavo soltanto i ragazzi perché mi mancavano Perché devo sopportare tutto questo disprezzo Dopo essere diventata una gatta E dopo quello che ho passato Perché non vi fidate di me? Dovremmo verificarlo, no? Sì Perché Renata ci ha già creato troppi problemi Sì, ma prendetevela con lei Non con me Io non ho fatto niente Beh, se sei Lucilla ti chiederemo scusa Che sta facendo? Chiamo la polizia Ti prenderanno le impronte digitali E così vedremo chi sei Vorremmo solo che facessi tornare Lucilla, Olivia Allora Olivia, devi solo prenderla e puff Ridarle l'aspetto di Lucilla, nient'altro Sì Tu hai i poteri Sì ragazzi, però non posso farlo Vedi piccola Eusebio ha trasformato Lucilla in una gatta Tu hai dei poteri, potresti provarci Sì, ma io non ho i poteri di Eusebio Non sono così tanto, 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 tanto forte Olivia, è molto importante dimostrare che la gatta è Lucilla Sì, lo so, però Così sapremmo che sicuramente qui a scuola c'è Renata Certo Sì, lei è stata qui Diego l'ha presa, gli abbiamo detto che era Renata Ehi Olivia, vieni Lo so che non è facile per te Però ci servono tanto le prove Devi cercare di trasformare di nuovo quella gatta in Lucilla Te lo chiedo per favore, pensaci Ragazzi, mi piacerebbe potervi aiutare Però io non posso proprio farlo Olivia, io non ho dimenticato che tu hai trasformato Rita in un coniglio Perciò, per favore, aiutaci Eusebio, che cosa vuole fare? Che vuole fare ora, eh? Maestro, con tutto il rispetto Io mi domando Lei vorrebbe trovare i cinque nipoti di Felipe lì dentro, nella sfera? Non ti stai zitta Manderò direttamente te nell'altra dimensione a cercarli Oh, no, 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 assolutamente basta Basta così Esperimenti su di me, mai più Basta, no, basta E allora, silenzio Voglio vedere se riesco a individuare i cinque nipoti Con questo vecchio metodo che a volte funziona Rita, ecco le due, là Il tempo passa, ma siamo sempre qui Perché nessuno viene a cercarci? Chissà dove siamo Non lo so Aiuto! C'è qualcuno! Cerca di stare calma Quei due ce l'hanno rimasto intrappolati in qualche punto dello spazio e del tempo Che si riferisce esattamente? Cioè, dov'è questo posto? Non lo so, non me ne importa Ti vuoi stare, zitta? Sì, va bene, però dico Lei ne ha trovati solo due, no? Gli altri dove saranno? Dove saranno? Chiudi quella bocca Tu non sei qui per parlare Ma per stare zitta Solamente io posso gridare Mi ascolti, maestro Eusebio Genio Lei mi è proprio stancata Non mi aveva voluto ridare il mio aspetto